Ciao amici di Hello Kitty! Sapete cosa si festeggia a giugno? La giornata mondiale dell'ambiente! Ed infatti per questa occasione vi mostrerò come creare un meraviglioso capolavoro in carta da incorniciare per celebrare l'ambiente insieme ai vostri amici e ovviamente Hello Kitty! Vediamo subito di cosa abbiamo bisogno! Un foglio di cartone Un foglio di cartoncino bianco Pennarello nero Matita Carta velina di vari colori Piccoli pom pom Colla liquida Forbici della punta arrotondata Immagini di Hello Kitty e dei suoi amici da stampare Per realizzare il nostro capolavoro da incorniciare in occasione della giornata mondiale dell'ambiente prendiamo un foglio di cartone come questo Con della colla incolliamo al di sopra un foglio di cartoncino bianco su cui possiamo andare a disegnare Posizioniamo la nostra mano al centro del foglio e con una matita tracciamo i contorni Questo sarà il tronco di un meraviglioso albero verde Sempre con la matita disegniamo anche la chioma dell'albero Per decorare il nostro albero avremo bisogno di fogli di carta velina di colore marrone come questa Accartocciamola con le nostre mani fino a formare dei salsicciotti lunghi e sottili Con della colla liquida incolliamoli sul cartoncino per creare le venature del tronco Lasciamoli asciugare per qualche minuto prima di proseguire con il resto Tagliamo delle strisce di carta velina di colore verde E con delle forbici dalla punta arrotondata creiamo tanti piccoli taglietti Incolliamo le strisce che abbiamo tagliato lungo il lato inferiore del foglio per creare l'erba Adesso non ci resta che creare la folta chioma di foglie del nostro albero Per fare ciò tagliamo i fogli di carta velina di colore verde chiaro in tanti piccoli quadrati Come sto facendo io Facciamo la stessa cosa anche con il foglio di colore verde scuro Adesso alternando i colori accartocciamo i quadrati con le nostre mani Ed incolliamoli all'interno del disegno dell'albero con della colla Proseguiamo fino a quando non avremo ricoperto l'intera superficie della chioma Ed ecco che il nostro albero inizia a prendere forma Per creare delle coloratissime mele usiamo questi piccoli pom pom rossi Ed incolliamoli sulle foglie dell'albero con della colla liquida Che ne dite di inserire anche Locchitti ed i suoi amici in questo capolavoro? Stampiamo le immagini che trovate nella descrizione di questo video Su un foglio di carta e con delle forbici dalla punta arrotondata tagliamole Con della colla incolliamole sul foglio proprio vicino al nostro albero Ed ecco che Locchitti ed i suoi fantastici amici sono pronti a giocare all'aria aperta Per festeggiare la giornata mondiale dell'ambiente Non ci resta che inserire il capolavoro in una cornice E la nostra decorazione dedicata alla giornata mondiale dell'ambiente è completata Diventa anche tu un amico di Locchitti Iscriviti al canale e metti like Alla prossima!